Un giovane di 22 anni di Picciano, Alessandro Affettuosa, ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto all'Oreto a Prutino. Lo schianto mortale si è verificato intorno all'una incontrata cartiere. La Fiat 500, sulla quale il giovane cuoco viaggiava insieme ad un altro ragazzo di Colle Corvino che ne era la guida e che non avrebbe riportato gravi conseguenze, è finita fuori strada. Inutili i soccorsi.